Inizia con un pareggio il girone di ritorno della Maceratese, clima rigido all'Elvia Recina e campo in pessime condizioni. I ragazzi di Bucchi hanno anche delle buone occasioni per portare a casa i tre punti, rischiando anche qualcosa, ma per la terza volta consecutiva non trovano la via della rete. Nel primo tempo poco da segnalare con la prima azione degna di nota per Coucou, ma il suo colpo di testa su Cross di Orlando termina sul fondo. I locali schierano in avanti il neoacquisto Colombi che consente a Coucou di svariare su tutto il fronte di attacco, ma le occasioni dalle parti di Anedda non arrivano, anzi sono i capitolini a sfiorare il gol con Tayarol, sul suo destro paraforte. Ad inizio ripresa Biancorossi all'Arembaggio e nei primi dieci minuti vanno più volte vicini al gol. Al sessantasettesimo l'azione più bella per i padroni di casa, con la corsia di destra Orlando Imparato, che sforna un assist al bacio per Foglia che a rimorchio incredibilmente spara alto. Al settantacinquesimo ci prova Carotti, ma il suo tiro passa in mezzo ad una selva di gambe e finisce fuori di poco. A sorpresa al settantaseiesimo l'occasione per il vantaggio arriva anche dall'altra parte del campo, con Leccese che a tu per tu conforti incrocia troppo e la palla finisce fuori. La maceratese ci prova ancora e all'ottantatresimo ancora Foglia, all'occasione per sbloccare il risultato su assist di Colombi, ma la sua conclusione è da dimenticare. Ultimi assalti Biancorossi anche con Belkaid e Giuffrida entrati per buon aiuto e Carotti, ma il triplice fischio finale chiude il pomeriggio con un nulla di fatto, che fa sì muovere la classifica ma vede allontanare Faizca e compagni dalle prime posizioni. Le occasioni ci sono state, ma l'undici Biancorosso sembra aver smarrito quel cinismo e quella tranquillità sottoporta che l'ha contraddistinto nella prima parte di stagione.